La medicina di emergenza è in crisi e le problematiche che investono i pronto soccorso sono notevoli. I giovani medici non vogliono più intraprendere questa carriera. Dati snocciolati dalla professoressa Clara Balsano, direttrice della scuola di specializzazione di medicina d'emergenza urgenza dell'Ateneo Aquilano, che ha organizzato una due giorni di convegno sulla medicina d'emergenza appunto. La pandemia ha messo ancora più in luce i problemi evidenziando la carenza di personale e la retratezza delle infrastrutture italiane che allontanano di fatto i medici dalla branca dell'urgenza. La medicina di emergenza urgenza attraversa una profonda crisi di vocazione. I medici sono scoraggiati dai carichi di lavoro pesanti, dall'esposizione a rischi, basse gratificazioni e scarse prospettive di carriera. Basti pensare che il Ministero della Sanità ha stanziato 147 milioni di euro, finanziando 1.152 borse, ma le iscrizioni sono state inferiore ai posti disponibili. 80 milioni torneranno dunque al Ministero. Per questo, per rendere più attrattiva la specializzazione, sarà istituita la Comeo, una conferenza permanente dei 36 direttori delle scuole di medicina di emergenza presenti in Italia. Quali sono le soluzioni? Le soluzioni sono per esempio rendere più attrattiva la scuola, facendo per esempio riconoscere ai ragazzi specializzati l'equipollenza con altre discipline. Questo vuol dire che si potrà fare un periodo in pronto soccorso di 10-15 anni, ma poi scegliere altri percorsi. Già adesso la medicina di emergenza è equipollente ad altre discipline, ma i ragazzi non possono diventare responsabili di reparto. E questa è la differenza per esempio con gli internisti. Quindi questa è la prima cosa che vogliamo fare. Dall'altra vogliamo sensibilizzare i nuovi specializzati alla carriera accademica. Uno dei grandi problemi è anche quello degli accessi dei pazienti a pronto soccorso. Spesso impropri, i dati sono eclatanti. A fronte di 125 mila accessi nello scorso anno, nella sola ASD dell'Aquila i ricoveri sono stati 6 mila. Anche il cittadino va informato meglio e più correttamente. Stiamo parlando di un 10-15% di ricoveri rispetto agli accessi. Quindi effettivamente questa parte si può gestire e su questo anche noi stiamo lavorando, sviluppando dei progetti anche di prevenzione in sala d'attesa, dove si può raggiungere il... diciamo, si può fare prevenzione e in qualche modo anche alleviare l'attesa ai pazienti non gravi in codice bianco, in codice verde, che stanno molte ore. Da noi circa 6-7 ore. Ma insomma, nelle grandi città arrivano a stare anche giornate intere, se non tutta la notte.